Sì, di questo siamo estremamente felici perché a nostro giudizio ciò ha riguardato sia i cittadini residenti, cioè i triestini, sia i turisti. Quindi alcuni musei, le massime attrazioni turistiche hanno guadagnato soprattutto grazie all'aumento del turismo, che hanno anche trainato, mentre molti altri musei sono stati visitati dai concittadini, che è ottimo. Ricordiamo in maniera particolare San Giusto. San Giusto è forse la massima attrazione della città, ma questo è logico, un luogo simbolo. In più i castelli hanno sempre un fascino particolare sui visitatori, il nostro gode di una vista panoramica direi eccezionale e quindi è un posto imperdibile.